Sì, giochiamo contro una squadra molto interessante, uno dei motivi per cui il nostro girone è estremamente equilibrato e difficile perché non ci sono squadre deboli e tutte le squadre sono molto ben attrezzate per poter far bene e giustamente ambiziose per lottare e per ambire al passaggio del turno. Un playmaker americano, Brazelton, molto 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 talentuoso, guardia tiratrice americana che si chiama Bell, altro giocatore con tanti punti nelle mani, il centro ex NBA che si chiama Jackson, un altro americano che però parte della panchina che è appunto il cambio dei lunghi e poi una batteria di giocatori polacchi molto molto interessante con grande atteggiamento sempre in campo. Tutto questo con una chimica molto buona e un'organizzazione molto buona fa appunto della squadra polacca una compagine estremamente competitiva, buona e contro la quale dovremmo giocare una partita estremamente solida e molto 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 positiva per cercare di strappare i due punti. Ma al di là dell'aspetto tecnico, dell'aspetto tattico, quello che finalmente nell'ultima trasferta in campionato siamo riusciti a mettere in campo per tutti i 40 minuti, c'è una certa continuità dal punto di vista del rendimento generale, dal punto di vista dell'attenzione, del sacrificio per non concedere ai nostri avversari tanti troppi punti facili che poi nell'economia di una partita fanno la differenza. Grazie 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 Grazie